E se chiedi a voi fate, si può leggere, a te o rettate, Amor, dunque non più, dina quel fatto, io lo benisco, quando? A volte un testo, prendete questo filo, per riportarlo, quando? Quando sarà postito, o c'è domani, e bene domani, io sono, io sono felice, D'amor, dunque non più, quando, 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 Io sono, io sono felice, d'amor, dunque non più, quando, quando, Quando avevo, quando, 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 Io non bravo, addio, addio. A Dio